La stagione è iniziata al top, sono davvero soddisfatta delle gare che sono riuscita a fare. La stagione è iniziata ovviamente quest'estate, ancora prima di quella invernale, dove il lavoro su ghiacciai non è mancato, ma neanche quello a secco. Il primo confronto ce l'ho avuto al top 50, dove sono riuscita a portare a casa un podio e anche allo stesso tempo di inforcata. Sono soddisfatta più che altro del dopo, perché sono riuscita ad allenarmi molto con mio papà, con i miei allenatori, con il Mesh Club, e sono arrivata all'Alpecimbra in un momento buono. Ho fatto forse un po' più di fatica ai nazionali, dove ci ho messo un pochino a prendere il ritmo, ma internazionale è tutto cambiato. Nello slalom nella prima mancia ho commesso tanti errori, ma ci sta perché capita quando una persona prova a spingersi oltre il limite. Nella seconda invece no, di fatti mi ho portata a vincere. È stato un risultato davvero bello, perché lo aspettavo da tanto, mi sono allenata tanto, ho fatto tanti sacrifici e vincere è stato veramente molto bello. Nel Gigante invece ho avuto ancora altri problemi nella prima mancia, dove ho inforcato con il braccio, quindi mi sono portata leggermente qui indietro. Ma nella seconda mancia sono riuscita a rimontare sul podio, quindi sono molto contenta, perché più che altro non ho vinto, non ho battuto le altre, non ho battuto le prime, però sono riuscita a battere me stessa ed è la cosa più importante per me in questo periodo. In questo momento sciare bene, pensare solo a me, è la cosa più difficile, ma che sono riuscita a fare. Adesso vedremo le altre gare, dove proverò a dare il meglio e si vedrà più avanti.